Funzia? Si che fungia. Maledetto! Non mi puoi sclerare il giorno del mio compleanno stronzo. Happy birthday to me. Purtroppo è un po' brutto perché ci becchiamo sta merda. El Thanatos Iceburner Set. Basta. Fine. Fine degli aggiornamenti. Poi vabbè il balance dei Fantastici 3. Vediamo come. Poi poi c'era un'altra cosa. Intanto saluto tutti quelli che state vedendo. Questi erano dei regalini che ho ricevuto. Uno dei tanti. Sì ma io ne avevo un altro. Mi hanno tolto. Eccolo qui. Questo è per l'americano ragazzi. Ed rilasciato con l'Hell Officer e i minipone. Bello. E notiamo che nell'americano iurikini non ci stanno. Eppure nella foto ci sto. Ok. E questo è uno dei tanti regalini. C'è insomma. Ehm. 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 Lord Knight. Vediamo cosa fanno. No. Un po' che ha tradotto di merda perchè si sa che Google traduce di schifo. Windmill è stato sceso a 150. Ehm. Quanta. Ehm. Non lo so se è buono o male. Ma ok. Ehm. Sì. Voci fuori campo. Dark fireball di questo. E' interessante. E' bella mi piace. E' il drop finalmente. Plasma cut. Blasinart. Sta porta mi ha ridotto in non vi dico cosa. Blasinart. Vabbè. Vediamo poi domani cosa fanno. Oh. Pensate che sia tutto? No. Ora vediamo se ci riesco. Questo è il file giapponese di add. Ora vediamo se funziona. E se lo scarica per essere un mincavola. Wow. No 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 no. Salvalo. Sto laggando però. Fate seghe. L'ho salvato nel posto sbagliato però. E salviamolo. Se sto cosa si muove. Desktop. Facciamolo lì. In questo caso. Nyeee. Riesco a muovere il mouse. Dove stai. Vieni qua stronzino. mi sa di no esatto giapponesi di merda perché si sa già il il voice insomma e voi pensate a dio brando di jojo del film però o chi altri era se toccaiba toccaiba di yugioh e lui e lui signori e vediamo un po' se c'è stato penso di no e lui che sta registrando si si che sta registrando e e porco toksi non è neanche moddata cos'è sta roba boh l'europeo ha strani eventi beh add ve l'ha rilasciato oggi in 4 server diversi o 5 non si sa per il giappone che cavolo devono fare il problema il problema sono gli ice burner perché le danno uno diverso a seconda dal server questo è un maledetto ecco qui hanno sistemato ma non c'è il giappone bravissimi maledetti non sanno neanche aggiornare stile efficiente vediamo se l'hanno aggiunto no strano strano cerchiamo un po' in giro magari hanno aggiunto anche il nesod no boh aspettiamo a sto punto anche perché devo ancora aggiornare quindi niente queste sono le informazioni povere di questa settimana cioè è una fusione tra level 3 server 2 di Yara solas per sticosi nelle ali il denif perché il denif ha sticosi rossi nelle ali solo che nel denif sono blu e perché dovete mettere il velo? è morto qualcuno non lo so però la cravatta sa di figo no non mi spira per niente no no non mi piace per niente boh dite la vostra nei commenti che poi tanato scrive tanato senza l'h vabbè le traduzioni di merda di google schifo merda come volete chiamarlo voi un agnoi schio a tutti e basta schifo Grazie.